Quella che avete letto è una notizia che segna evidentemente anche una svolta non teologica all'interno della Chiesa, ma comunque importante rispetto alla Chiesa e alla società moderna. Noi abbiamo in linea, abbiamo in collegamento Marcus Krinke che è teologo, insegnante di teologia, allora gli chiediamo, insomma per il grosso pubblico, per la gran parte del pubblico, questa è veramente una notizia che può sorprendere, insomma la Chiesa che dice sì al battesimo per i figli di coppie gay e le trans che possono fare le testimoni anche di nozze per esempio. Esattamente Albre, e come dici tu e giustamente hai sottolineato subito che non è proprio una svolta teologica, però nella percezione e qui vediamo come ormai anche quello che sono i sacramenti della Chiesa, almeno nella percezione pubblica, sono stati veramente interpretati attraverso quelli che sono una rigidità morale della Chiesa e ha fatto bene la congregazione e insieme alla congregazione per la dottrina sociale, per la dottrina della fede, che ha appunto emesso questo documento Papa Francesco, a mettere un altro passo sulla divisione da quello che è il profondo senso del sacramento e in qualche modo la sua strumentalizzazione. Strumentalizzazione morale in che senso? Un anno fa ho letto un articolo che molti vescovi americani hanno rifiutato, hanno dato anche ai preti l'ordine di non battezzare i figli di coppie gay, di situazioni transgender e tutti quelli casi che in questo documento sono trattati. E da lì vediamo la strumentalizzazione di un sacramento per altre questioni, per questioni morali, politiche, di destra in questo caso. Scendendo queste due questioni abbiamo un nuovo sguardo sul vero senso del battesimo. Nel battesimo sta al centro il bambino o anche l'adulto, quello che sia, cioè il battezzando, non il problema morale dei genitori. Certamente la Chiesa ha sottolineato anche in questo documento che non deve recare scandalo la situazione, quindi si vuole anche evitare nuove strumentalizzazioni, nel senso che magari questo battesimo di figli di gay, transgender viene messo sopra una certa bandiera. Si vuole anche evitare che battezzare il figlio, in questi casi, diventa una sorta di diritto o essere padrino, madrina, diventa in un certo senso di rivendicazione. L'idea è veramente di mettere al centro il battezzando, poi è la sua evoluzione nella fede. Alla fine questo è il senso del sacramento, questo è il senso anche della classica dottrina che un bambino deve crescere in una famiglia cristiana per garantire che il battesimo non è soltanto un rituale all'inizio della vita, ma all'inizio di una vita cristiana. Ecco, infatti si sottolinea che comunque certe condizioni ci sono, la prima è quella che hai ricordato tu, cioè che questi riconoscimenti devono essere accompagnati comunque da un impegno di una vita stabile, di una vita cristiana, di credenti, eccetera. Ma, facile dirlo, ma nessuno può andare a controllare, del resto vale anche per le coppie eterosessuali, no? Cioè c'è un po' di ambiguità in questo? Certamente non si può entrare in qualche modo nella coscienza delle persone o nell'intimità della vita personale, dei rapporti personali delle persone. E qui senz'altro è avvenuto dell'interpretazione del sacramento in un certo senso una svolta, perché prima fu giudicato la situazione del battezzando in maniera oggettiva, cioè al di fuori, giudicando una situazione e come questa situazione è formata a partire da genitori o di chi ha adottato o in qualche modo fatto sì che il bambino finisse in questo ambito di un rapporto, di una coppia duratura in maniera gay o transessuale. Adesso invece si mette da parte un pregiudizio della situazione, soltanto a partire dalla situazione dei genitori, e si cerca di puntualizzare la situazione del battezzando e appunto la possibilità che una vita cristiana appunto coscienziale di questo battezzando all'interno della fede cristiana possa essere vissuta. Di per sé, questo non è stato qualcosa negato prima, però vediamo come tradizionalmente, spesso nella chiesa, delle situazioni sono più giudicate a partire da un pregiudizio morale che non mettere al centro la persona. Questa svolta verso la persona, questa attenzione verso il battezzando, è alla fine anche nel dire che crescere nella fede, identificarsi con una fede, sono più dimensioni che ci caratterizzano nella nostra personalità, più dal di dentro, più nelle nostre convinzioni, che non a partire da una situazione di genitori o anche di padrini, madrini dal di fuori. Ecco, vorrei fare un esempio concreto, no? Per la chiesa cattolica comunque, diciamo, per una coppia gay, avere il figlio, diciamo, tramite la gestazione di un'altra persona, no? Insomma, è fonte di critiche assai forti. Eppure anche in questo caso il figlio che nascesse in questo modo ha diritto al battesimo. Non è un po' difficile per, diciamo, la comunità cattolica capire quello che potrebbe ancora una volta sembrare una contraddizione? Sì, potrebbe essere difficile qualora si legge questo documento come un'accettazione ufficiale di quello che è la forma di vita della coppia gay o transessuale. E si vede però anche nel documento che questo passo, il documento stesso, non può e non vuole fare. Non vuole, appunto, perché il momento non è questo, non può anche per la semplice natura del documento. Si tratta di una risposta della congregazione per la dottrina della fede a una richiesta di un vescovo brasiliano, in questo caso. Un documento di questo tipo non può per definizione, in qualche modo, definire una nuova dottrina. Semplicemente si puntualizza, si applicano canoni del diritto canonico, oppure anche del catechismo della Chiesa, al fatto singolare. È abbastanza interessante, se posso sottolineare questo dettaglio, vedere come nel caso di padrini e madrini del battesimo, Il documento è cauto, cioè nel senso ammette che possono farlo, persone gay o transgender, ma si dice che queste persone comunque devono avere una certa identificazione, evidentemente, con la fede cristiana. Nel caso di testimoni di nozze, questa richiesta non viene fatta, perché nel caso di testimoniare le nozze, non si tratta che quella persona che testimonia ha anche una responsabilità nella fede per la coppia che si sposa. Lì si tratta semplicemente che una qualsiasi persona che non deve neanche essere cattolica testimoni il fatto che due persone si danno la promessa matrimoniale. In questo caso, evidentemente, anche il documento, per quanto riguarda i casi di cui stiamo parlando adesso, è molto più aperto e non fa neanche più quelle cautele che non deve recare scandalo, che non in qualche modo, che ci vuole una responsabilità comunque cristiana delle rispettive persone, viene fatta. Ecco, così il Papa ha risposto, in sostanza è lui che alla fine ha risposto, ai cosiddetti dubbi, a che venivano appunto da due prelati importanti. Entriamo comunque in una nuova dimensione perché tu hai sempre detto questo Papa prepara i cambiamenti. Qui però ci è entrato assolutamente nel cambiamento. Cosa sta cambiando? Assolutamente, caro Aldo. Il cambiamento sta nel fatto di dire che l'identità cristiana deve sempre interrogarsi su quelle che sono le sfide del proprio tempo, che sono i modi di vivere delle persone nel proprio tempo. La fede cristiana deve certamente rimanere identica, non si tratta in qualche modo di anacquare o in qualche modo di tradire l'identità del cristianesimo. Ma questo non deve diventare una scusa per giudicare da un punto di vista completamente anacronistico forme di vita soltanto perché momentaneamente non piacciono. E invece di accogliere proprio questa esigenza che si esprime dove? Si esprime nella sede di qualsiasi persona, nella coscienza di qualsiasi persona. Prendere sul serio questo. Questo per me è la fede cristiana e lì secondo me il Papa vuole andare. Marcus Krinke, grazie per queste spiegazioni. Alla prossima. Grazie Milaldo e grazie a tutti quanti che ci hanno seguito. Grazie a tutti.